Il titolo della mia conferenza si chiama C'era una volta la conversazione e spero che emergerà qualche collegamento col tema del festival che è la rete, internet, e spero soprattutto di non annoiarvi troppo. Nel giugno del 1775, appena tre anni dopo aver portato a termine la pubblicazione dell'enciclopedia o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, la più grande rete di saperi messa a punto dall'Europa moderna, Denis D'Hydraud individuava nella conversazione una rete di comunicazione ancora più capillare e efficace. Così D'Hydraud scriveva infatti all'amico Jacques Necker, il banchiere svizzero destinato di lì a poco a ricoprire la carica di ministro delle finanze di Luigi XVI. Cito, l'opinione, questo elemento dinamico di cui conoscete tutta la forza nel bene e nel male, in origine non è che l'effetto di un piccolo gruppo di uomini che parlano dopo aver pensato e che formano di continuo, in diversi punti della società, dei centri di istruzione, da cui gli errori e le verità ragionate si propagano di bocca in bocca fino ai limiti estremi della città, dove si stabiliscono come articoli di fede. I nostri iscritti agiscono solo su una determinata classe di cittadini, i nostri discorsi su tutti. Fin dai primi decenni del Settecento, in effetti, la conversazione praticata nelle case private, nelle accademie, nei caffè parigini era andata assumendo un ruolo di prima importanza per la diffusione dei lumi. In una monarchia assoluta come quella francese, in cui la parola scritta era sottomessa a una rigorosa censura, quella orale godeva al contrario di una sorprendente libertà. E scrittori e filosofi avevano subito imparato a servirsi della rete mondana dei salotti per orientare l'opinione delle élite a favore delle riforme necessarie al Paese. E l'Europa intera sarebbe venuta a Parigi ad ammirare quell'arte della parola condivisa che costituiva uno dei tratti distintivi della civiltà aristocratica francese. Ma non era sempre stato così. E volendo oggi ripercorrere brevemente qui con voi la storia di questo modello archetipico che è all'origine della nostra idea di comunicazione moderna, dobbiamo risalire per trovarlo nell'Italia del Rinascimento e più precisamente nella Napoli aragonese. Perché qui, sul finire del quattrocento, che esso prende forma in risposta alla discesa in armi di Carlo VIII in Italia. Lasciamo la parola al poeta umanista Giovanni Pontano. Cito. Mentre gli eserciti francesi percorrono, per non dire devastano l'Italia, e da una parte proprio i francesi e dall'altra gli spagnoli occupano il regno di Napoli, abbiamo del tutto distolto l'animo e la mente dalle grandissime sofferenze che ci fanno giustamente vacillare. E cosa che può forse stupire, ci siamo volti a scrivere delle virtù e dei vizi che si ritrovano nella conversazione familiare. Questa risposta di Giovanni Pontano agli orrori della guerra, alla presa di coscienza della politica militare e civile del proprio regno e della penisola tutta, ormai alla mercè eccensionfatta di Venezia e di Roma, delle grandi potenze straniere, può sembrare quella tipica di un uomo di lettere. Esautorato dagli altri incarichi che ricopriva la corte aragonese, Pontano reagisce infatti alle sventure della vita pubblica ritornando agli studi e invitando l'elite italiane a coltivare le dolcezze della vita privata. Eppure la sua non è, come a prima vista si potrebbe credere, una fuga dalla realtà, ma piuttosto una strategia che punta a un paziente lavoro di rieducazione civile, attraverso la pratica viva della cultura umanistica. La tolleranza, l'apertura all'altro, l'urbanitas, la civilitas. Ultimato nel 1499, pubblicato postumo dieci anni dopo, il De Sermone è un atto di fede nella forza civilizzatrice della parola e costituisce il testo inaugurale della riflessione europea sull'arte della conversazione. Per la prima volta, infatti, la conversazione viene rappresentata come un fenomeno etico ed estetico a sé stante e assorge allo statuto di modello del vivere civile. Il De Sermone di Pontano affronta dunque un problema di interesse cruciale per la civiltà moderna, mostrandone la complessità delle implicazioni intellettuali e morali. Ma è anche importante sottolineare come le drammatiche circostanze in cui il trattato ha visto la luce rivelino la sfida utopica che ne è all'origine e continuerà a ispirare la conversazione d'antico regime. Le buone maniere e il buon uso della parola possono infatti governare la natura degli uomini, educarla, darle forma e regola, fides e veracitas, sicurezza e onore. Una sfida in parte vincente, visto che arte della conversazione e buone maniere si sarebbero imposte nei secoli successivi come elementi distintivi delle élite europee e, pur non possedendo la facoltà di impedire le guerre, avrebbero contribuito a agevolare il ritorno alla pace con il nuovo linguaggio della diplomazia e a ingentilire le usanze di una società adusa alle armi e impregnata di violenza, contrapponendo alla logica della forza quella del piacere. Scritto nel Neolatino degli Umanisti e dunque destinato a un pubblico ristretto, il De Sermone apriva però la strada ai tre grandi trattati pedagogici del nostro Rinascimento. Il libro del cortegiano di Castiglione, 1528, il Galateo pubblicato postumo nel 1558 di Giovanni della Casa e la civil conversazione, 1574, di Stefano Guazzo. Scritti in italiano e subito tradotti in varie lingue, questi testi diffondevano in Europa il codice di comportamento, il know-how, diremmo oggi, del gentiluomo moderno. Se il Galateo si rivolgeva a un pubblico il più possibile vasto e promuoveva l'educazione senza tenere conto delle diversità sociali, il libro del cortegiano e la civil conversazione possono essere letti come i momenti successivi di uno stesso ambizioso programma. Insegnare alle élite come mettere in scena la propria identità sociale grazie a una perfetta padronanza delle parole e dei gesti. In questo processo di teatralizzazione dell'io, la conversazione assumeva un'importanza cruciale. Rappresentava il momento di massima esposizione sociale dell'individuo e esigeva un controllo sapiente di tutti i propri mezzi espressivi. Non diversamente dalla parola, ad essere in gioco erano il tono della voce, i gesti, l'attitudine, l'espressione del viso. E quale che ne fosse la finalità, la conversazione doveva sempre tenere conto della regola generale della convenienza, dell'aptum degli antichi, adattandosi alle persone, ai luoghi, alle circostanze. Senza queste premesse, essa non poteva aspirare a essere né urbana, né civile, né cortese. Nel grande libro di Castiglione, tuttavia, la corte era il solo luogo dove il sogno di perfezione dell'uomo del rinascimento poteva realizzarsi pienamente. Mentre nella civil conversazione di Stefano Guazzo, Guazzo si mostrava agli antipodi dello spirito cortigiano. Preferiva la città al palazzo, insegnava al gentiluomo a essere se stesso. Scritto al tramonto della civiltà italiana del rinascimento e basato sulla convinzione che esiste una nobiltà dell'anima indipendente della nascita, che si forgia nell'esercizio della virtù, il libro di Guazzo guardava decisamente all'avvenire. Su un punto, tuttavia, Castiglione e Guazzo concordavano perfettamente. Entrambi si mostravano indignati dell'ignoranza e della rozzezza dei francesi e li additavano a modello negativo dell'educazione nobiliare. Ed erano i francesi stessi a confermare questo giudizio. Ma allora, in virtù di quale clamoroso ribaltamento un critico autorevole come il père Dominique Bourg poteva, nei suoi Entretien d'Ariste Eugène, apparsi nel 1671, un secolo dopo l'uscita dei nostri grandi testi rinascimentali, in virtù di quale ribaltamento Bourg poteva iscrivere fra i primati culturali della Francia, diventata con la pace dei Piranei di qualche anno prima la maggiore potenza politica europea, anche quello dello stile e delle buone maniere. Cito. Il secolo attuale, afferma Bourg, è per la Francia quel che il secolo scorso era per l'Italia e si può dire che spirito e uso di mondo siano nostro appannaggio e che tutti gli altri popoli siano barbari in confronto ai francesi. Si può dire che in Francia non c'è più quasi nessuno che non parli bene e con educazione. Dunque, non solo la translazio imperi e la translazio studiorum erano un fatto compiuto e l'Italia, diventata terra di occupazione delle grandi potenze, aveva perduto la sua egemonia culturale, ma stando a Bourg, anche le grazie, l'urbanitas, la civilitas, la facetudo di Pontano, la sottigliezza, l'arguzia, la spezzatura di Castiglione, avevano lasciato la penisola per emigrare in terra di Francia. Ma vediamo cosa era successo. Possiamo rintracciare le origini di questa spettacolare metamorfosi tanto nel processo di modernizzazione e di centralizzazione della monarchia francese nel corso del XVII secolo quanto nella profonda crisi di identità che alle soglie del Seicento aveva colpito la casta dei privilegiati. Uscita con la fine dei conflitti religiosi da una lunga e sanguinosa guerra fratricida, la nobiltà francese si era infatti confrontata con la necessità di smussare la violenza dei rapporti sociali, di frapporre fra sé e gli altri lo scudo invisibile di un corpo di regole in grado di garantire la dignità di ciascuno e di sublimare l'aggressività in gioco. Ma questa esigenza civilizzatrice che avrebbe incominciato a farsi strada a partire dai primi decenni del Seicento non era dettata soltanto da una necessità pratica. Si ricollegava a una riflessione più vasta e complessa legata all'identità nobiliare, alla sua rappresentazione sociale e al diverso ruolo che le era consentito di esercitare nel nuovo quadro della monarchia dei Borbone. Non abbiamo qui il tempo se non di accennare per somme linee alle ragioni storiche che avevano portato a questa crisi di identità e alle nuove scelte che ne sarebbero maturate. Limitiamoci a dire che, allontanata dal cardinale di Richelieu e dalla sfera del potere politico, privata dell'esercizio permanente delle armi, la nobiltà di spada doveva ora far fronte a un contesto storico nuovo, inedito, in cui le prerogative tradizionali, le cariche, le terre, i palazzi, i vestiti, i gioielli, avevano perso i connotati dell'esclusività. Prese dunque le distanze dalla corte, il cui rituale era finalizzato esclusivamente all'esaltazione del sovrano, la nobiltà di spada si era dotata di uno spazio proprio, quello privato delle sue dimore, dove cooptarsi e incontrarsi per celebrare soltanto se stessa. Uno spazio a cui non ci si preoccupava di dare un nome, utilizzando per esso l'appellativo generico di mondo, mondo. In breve, infatti, le mondo non avrebbe più soltanto indicato la sfera dell'umano contraposto a quella del divino, al cielo, ma una realtà sociale circoscritta, dove una piccola elitto di privilegiati si cimentava in un progetto etico ed estetico rigorosamente laico, secolare, per cui sarebbe stato coniato il nome, peraltro intraducibile in qualsiasi altra lingua, di honeteté. Vale a dire, una morale dotata di leggi autonome e di un codice di comportamento improntato al culto delle forme, che a detta del suo maggiore teorico, il cavaliere de Meret, consisteva essenzialmente, cito, nel vivere e comunicare in modo umano e ragionevole. Fine di citazione. D'ora in avanti sarebbero stato dunque il modo di vivere, di parlare, di atteggiarsi, di divertirsi, di stare insieme, a conferire alle élite nobiliari l'inconfondibile certezza della propria superiorità. Sarebbero state le bien séances, le buone maniere, il corpo di leggi non scritte, ma più potenti di qualsiasi norma, a fornire loro il banco di prova, una volta riservato esclusivamente alle armi. Era la nascita di un nuovo ideale, l'ultimo che avrebbe consentito alla nobiltà francese di erigersi ancora una volta a emblema e modello di tutta la nazione. Un ideale di socievolezza, sotto il segno dell'eleganza e della cortesia, che contrapponeva alla logica della forza e alla brutalità degli istinti, un'arte di stare insieme basata sulla seduzione e sul piacere reciproco. Ed è precisamente sulla spinta di questo ideale che la Francia diventava l'incontestabile erede di quell'arte di vivere nobilmente, di cui l'Italia era stata maestra e ne assumeva rapidamente il controllo. Nel raccogliere l'eredità italiana, la nobiltà francese la adattava tuttavia alle proprie esigenze e le conferiva un carattere nuovo e originale. Fino ad allora il dibattito teorico sulle maniere e i discorsi del vivere civile era stato, come abbiamo visto, appannaggio di grandi umanisti e il loro insegnamento, al di là delle caratteristiche contingenti delle piccole corti a cui l'uno o l'altro facevano riferimento, si voleva universale. In Francia, invece, malgrado la proliferazione di manuali di buona maniere, non incontriamo niente di equivalente per complessità e importanza ai grandi libri di Castiglione e di Guazzo. E la regola universalissima, l'ideale forma del vivere, da prendere a modello, non procedeva dall'alto, ma si elaborava via via all'interno stesso delle elitte mondane per poi imporsi come tratto costitutivo del carattere nazionale. Si trattava, in ogni caso, di un fenomeno senza precedenti. Per la prima volta nella storia della civiltà occidentale, io credo, tutta una società si guardava allo specchio, si studiava, si analizzava e rifletteva in modo sistematico sul proprio apparire e sui problemi della comunicazione, facendone l'elemento distintivo della propria identità. La posta in gioco era un'arte della parola capace di stemperare l'aggressività, favorire il consenso e la coesione sociale attraverso uno scambio armonioso. Un'arte capace di uniformare e al tempo stesso di distinguere, come pure di produrre svago, piacere, cultura. È precisamente da questa riflessione collettiva che prendeva forma la conversazione alla francese che per la molteplicità delle sue funzioni doveva imporsi come il rito centrale della società aristocratica di antico regime. Vediamo dunque le peculiarità che ne avrebbero fatto un fenomeno unico in Europa. In primo luogo la conversazione mondana francese prevedeva la partecipazione delle donne. A differenza di quanto avveniva nei paesi protestanti o di quelli ultracattolici come l'Italia e la Spagna, dove la controriforma invitava a delimitare l'azione femminile nell'ambito della sfera familiare e domestica, le donne della nobiltà francese godevano di una notevole libertà e di una autorità indiscussa. Erano loro a dettare leggi in fatto di buone maniere, di buon gusto e di divertimento. Erano loro le maestre e le guide della società mondana. Erano loro dunque a presiedere alla conversazione, a deciderne gli argomenti, a orientarne il tono. E poiché la loro educazione era limitata e non studiavano né la retorica, né la teologia, né la filosofia, né le lingue antiche, esse chiedevano ai letterati che accoglievano nel loro cercle, nelle loro case, di parlare e di scrivere degli argomenti che le riguardavano più direttamente. Il buon uso della lingua, la psicologia, la morale, l'amore. E una nuova categoria di scrittori, ansiosi di avere successo, rinunciavano allo specialismo della Repubblica delle Lettere e si mostravano pronti a rispondere all'esercizio del nuovo pubblico, a, come si diceva loro, civilizzare la dottrina, privilegiando i generi alla moda, come la poesia d'occasione, il teatro, la scrittura aforistica, il romanzo. Ispirata alle donne e all'insegna della galanteria, questa nuova conversazione alla francese prendeva così le distanze dalla tradizione umanistica, rifugiva dall'erudizione e aveva in orrore i pedanti. La sua vocazione ludica non le impediva tuttavia di svolgere una funzione formativa e di costituire un'autentica scuola di mondo che insegnava a spaziare dall'osservazione dei dettagli più futili alla musica, all'arte, alla letteratura, alla storia, come pure allo studio psicologico e morale. si poteva parlare di tutto. L'importante era come se ne parlava. Anche per la morale mondana dell'honettité la prima regola da rispettare era quella retorica dell'aptum. Bisognava nel rivolgere alla parola il proprio interlocutore sapere tenere conto della sua età, del suo sesso, della sua posizione sociale in accordo ai luoghi e alle circostanze in cui lo scambio verbale aveva luogo. Questo implicava già di per sé la perfetta padronanza a corte delle regole dell'etichetta e in società di quelle delle buone maniere e del tatto, il che a sua volta supponeva la conoscenza tutt'altro che facile delle genealogie, del variare dei titoli e degli inestricabili rapporti di parentela di una casta nobiliare endogamica. nozioni queste che chiamavano in causa l'intera storia nazionale. Nemmeno necessario per essere in grado di tenere una conversazione variata e piacevole era avere ben presenti alla memoria le storie gli aneddoti i famosi luoghi comuni vale a dire il sapere condiviso di cui si nutriva la cultura mondana per poterli evocare all'occasione con frontezza e naturalezza. Un esercizio questo che implicava però una capacità mnemonica un ricorso costante per dirla con Giulio Camillo al teatro della memoria a cui noi moderni sempre più sprofondati nelle acque dell'ete abbiamo oggi sostituito la memoria virtuale di internet. ma l'importanza della conversazione era di portata ancora più vasta attraverso la pratica quotidiana di una riflessione collettiva incentrata sulla propria identità di casta e sul proprio tempo libero sui propri loisir quello che caratterizzava la nobiltà che o faceva la guerra o trasformava il suo ozio in un'arte del vivere un'elite prendeva le distanze dal potere politico la corte dall'autorità religiosa la sorbonne e dal sapere specialistico dei dotti la repubblica del lettere e si arrogava il diritto di decidere sola quello che doveva pensare infatto di arte di letteratura di gusto di morale di religione e nel corso del secolo successivo del settecento anche di politica a riprova dell'importanza assunta dal suo giudizio è sufficiente ricordare che era precisamente per raggiungere questo nuovo pubblico di uomini e donne digiuni di studi umanistici che Cartesio e Pascal abbandonavano il latino in uso nei trattati di filosofia e teologia e sceglievano il francese per il discorso del metodo e le provinciali era la prefigurazione di quella società civile che avrebbe giocato un ruolo di primo piano nel secolo successivo e il peso della cui opinione appariva già evidente nella formazione del gusto classico come nella controversia jansinista o nella carelle degli antichi e dei moderni oltre alla posizione di preeminenza delle donne e alla partecipazione dei letterati un altro tratto distintivo della conversazione francese era il suo carattere di rito nazionale a differenza di quanto accadeva negli altri paesi d'Europa la centralizzazione promossa dalla monarchia francese nel corso del seicento aveva fatto infatti convergere l'elite del paese in un raggio di poche miglia fra Parigi e Versailles e aveva permesso loro di elaborare uno stile di vita comune pur perseguendo un'esistenza mondana indipendente dalla vita di corte l'alta nobiltà non rinunciava affatto a occupare il posto che gli era dovuto accanto al sovrano da cui solo dipendevano le cariche gli onori le ricchezze così generazione dopo generazione gli esponenti delle stesse grandi famiglie si sarebbero divise fra la ville e la cour fra Parigi e Versailles alternando al ruolo di cortigiano quello di uomo di mondo ma questo vai-vieni continuo aveva inevitabilmente creato uno smosi nei comportamenti che con l'installazione della corte a Versailles e i trent'anni di egemonia di quest'ultima sotto Luigi XIV avrebbero portato a una fusione fra modello mondano e modello di corte una sintesi spettacolare che faceva delle buone maniere della socievolezza e dell'arte della conversazione francese uno stile di vita nazionale e al tempo stesso un modello superiore da proporre all'imitazione di altri paesi già nelle sue lettere persiane pubblicate nel 1721 Montesquieu recoglieva giocosamente sotto forma di paradosso il punto d'arrivo di questo spettacolare processo grazie mille facendo dichiarare a uno dei suoi persiani a uno dei suoi viaggiatori in visita a Parigi se l'uomo è un animale socievole mi pare che il francese sia più uomo di un altro è l'uomo per eccellenza perché sembra fatto unicamente per vivere in società grazie mille con la morte di Re Sole nel 1715 era stata peraltro Parigi a prendere la rivincita su Versailles e a diventare il centro della vita intellettuale e mondana del paese moltiplicandovi i punti di incontro e per darvi un'idea del progressivo espandersi di questa rete capillare di informazione costituita dai salotti rete di informazione attraverso cui circolavano notizie opinioni idee si può ricordare che all'epoca della regenza nel 1720 le dimure private dove l'alta società si ritrovava per cenare giocare fare conversazione erano all'incirca un'ottantina e alla vigilia della rivoluzione nei primi anni del 1780 se ne contavano non meno di 600 con l'avvento dei lumi la riflessione sulla conversazione cambiava tuttavia di carattere non si limitava più alle preoccupazioni estetiche di un'elite ma investiva i problemi fondamentali della nuova cultura gli uomini di lettere non venivano più cooptati in funzione della vita mondana come intrattenitori subalterni era piuttosto la vita mondana a fornire loro il tessuto connettivo necessario per confrontare e diffondere le idee per la prima volta nel salotto della Marchesa di Lambert che apre i suoi battenti all'inizio del settecento gli scrittori come categoria si incontrano con gli aristocratici in un connubio di cui D'Alembert co-direttore assieme a Didro del grande dizionario enciclopedico coglie tutta l'importanza cito gli uni vi portavano il sapere e i lumi gli altri quella civiltà e quell'urbanità di cui neppure il merito può fare a meno gli uomini di mondo uscivano dalla casa di Madame de Lambert più colti e gli uomini di lettere più amabili questo scambio continuerà anche fuori dalle sale dell'Hotel de Lambert e si perpetuerà fino alla rivoluzione e le sue considerazioni sui costumi di questo secolo pubblicate nel 1751 un altro filosofo di spicco Charles Pinot du Clos ribadisce in termini più generali le affermazioni di D'Alembert sui risultati della collaborazione fra intellettuali e mondani cito l'unione è stata di reciproca utilità le persone di mondo hanno coltivato lo spirito formato il gusto e trovato nuovi piacere gli uomini di lettere ne hanno tratto vantaggi non inferiori hanno trovato considerazione perfezionato il gusto affinato lo spirito ingentilito i costumi e acquisito su vari argomenti lumi che non avrebbero attinto dai libri verso la metà del settecento il processo di integrazione fra i due mondi fra mondo intellettuale e mondo aristocratico appare irreversibile e sempre Duclos osserva i costumi fanno a Parigi quello che lo spirito di governo fa a Londra promuovono nella società la fusione e l'eguaglianza di condizioni che nello Stato sono distinte e subordinate tutte le classi sociali vivono a Londra nel più stretto contatto perché tutti i cittadini hanno bisogno gli uni degli altri l'interesse comune li avvicina i piaceri producono lo stesso effetto a Parigi tutti quelli che si piacciono si riuniscono gli intellettuali dunque si servivano dei salotti per comunicare i mondani per fare conversazione ma era la conversazione stessa che aveva cambiato di natura non rispondeva più alle preoccupazioni estetiche di un'elite ma investiva i problemi fondamentali della nuova cultura la parola ora doveva essere al servizio della verità e non più del semplice divertimento nel dibattito del settecento la conversazione era concepita come un'attività di gruppo che doveva favorire i progressi della ragione offrendo un metodo di inchiesta aperto e attento ai migliori argomenti assicurare la coesione sociale e dunque rafforzare la preoccupazione del bene pubblico i grandi salotti intellettuali dell'epoca da quello della Marchesa di Lambera a Madame de Necker passando per le riunioni di Madame de Tansan il Vessi sul Baccio il Listo dell'Espinance eccetera possono essere considerati come le possibili varianti di un unico ambizioso progetto fin dai tempi della celebre Marchesa di Rambouillet che a partire dai primi decenni del Seicento aveva dato l'avvio all'istituzione del Salotto come elemento portante della vita mondana erano in genere le padroni di casa a presiedere alla conversazione a tenerne le fila a moderarne il tono attente ai migliori argomenti e pronte a ravvivarne l'attenzione nei momenti di stanchezza era la padrona di casa a mettere in valore i conversatori più brillanti tenendo ugualmente conto dell'amor proprio degli altri ospiti e vigilando perché ciascuno dei componenti del circle avesse diritto di parola in modo da arricchire la conversazione generale con il suo contributo di notizie di riflessioni di brio quale esempio più paradigmatico della perfetta moderatrice di Julie de l'Espinas che tenne fra il 1764 e il 1776 uno dei più importanti salotti intellettuali di Parigi in maniera del tutto eccezionale una donna povera sola non bella senza famiglia alle spalle senza uno statuto sociale era riuscita in virtù della sola seduzione intellettuale a conquistarsi la libertà l'indipendenza economica il prestigio mondano i suoi ospiti non costituivano di per sé un gruppo omogeneo e provenivano dalle file della nobiltà come da quelle dell'enciclopedia erano ministri diplomatici cardinali alti funzionari dello Stato dame del Gran Mondo autori famosi ma anche giovani intellettuali alle prime armi li aveva presi qua e là ricorderà Mar Montel un suo amico frequentatore nelle sue memorie ma cito ma così ben assortiti che quando erano da lei formavano un insieme armonioso come le corde di uno strumento montate da un'abile mano e proseguendo nel paragone potrei dire che la suonasse tale strumento con un'arte davvero geniale sembrava sapesse quale suono avrebbe messo la corda che si accingeva a toccare infatti conosceva così bene le nostre menti e i nostri caratteri che bastava una sola parola per fargli reagire e badate bene che le menti che rispondevano alle sue sollecitazioni fra le altre quelle di Oncondiaco o di Turgot non erano né deboli né leggere e d'Alembert quando l'era accanto aveva l'aria di un semplice e docile bambino il suo talento nel lanciare uno spunto di riflessione per poi lasciarlo discutere a uomini di quel valore il suo talento di discutere la stessa come loro con precisione e talvolta con eloquenza il suo talento nel proporre idee nuove nel variare la discussione sempre con la naturalezza e la semplicità di una fata che con un colpo di bacchetta cambia piacimento lo scenario dei suoi incantesimi questo talento non era quello di una donna comune e come non pensare leggendo questa evocazione di questa bacchetta magica che sfolge lo scibile universale al tocco del tasto di internet che ci collega ai più diversi saperi la conversazione fungeva anche da scuola per le nuove generazioni dando loro l'occasione di acquisire attraverso la pratica un sapere che nessuna lettura avrebbe potuto conferire fu ciò di cui il conte Louis de Seguir fece tesoro frequentando a Parigi negli anni 1770 i grandi circle aristocratici della generazione precedente si respirava fra loro ricordirà un indefinibile misto di semplicità e nobiltà d'animo di grazia e di ragione di critica e di urbanità imparavamo senza accorgercene la storia e la politica del passato e del presente una quantità di anedoti sulle corti da quella di Luigi XIV a quella del sovrano regnante percorrendo una galleria di eventi e ritratti vi si discuteva senza pedanteria e nel rispetto dell'opinione altrui di filosofia di letteratura e di poesia questa conversazione ci insegnava un'infinità di regole di tatto e di gusto e una meriade di osservazioni e sfumature che sarebbe praticamente impossibile spiegare per iscritto in effetti nata come sfida utopica la conversazione aveva via via forgiato un sistema di comunicazione che affidandosi esclusivamente al rispetto delle buone maniere permetteva alla società civile di dotarsi all'interno stesso della monarchia assoluta di un suo proprio foro di un suo proprio parlamento una libera assemblea a porte chiuse luogo di espressione dei propri giudizi ricordo che la monarchia francese non prevedeva un parlamento mentre quella costituzionale inglese era la monarchia costituzionale inglese il punto di riferimento di tutte le aspirazioni riformiste degli illuministi nella Francia assolutista la parola privata veniva così a supplire all'assenza della parola rappresentativa e si apriva alle forme ugualitarie del dialogo e al confronto delle idee in seno allo stato assoluto e in contrasto più o meno esplicito con esso la vita di società diventava l'orizzonte ultimo di tutte le aspirazioni individuali il solo luogo dove la natura umana potesse svilupparsi ma per i filosofi e gli uomini di lettere che avevano assimilato i codici di vita di questa società a cui partecipavano ormai a parte intera la conversazione non aveva più come solo obiettivo di promuovere i lumi e di dirigere l'opinione pubblica ma costituiva la dinamica stessa della riflessione intellettuale nessun caso appare più emblematico di quello di Denis Didreau per il capofila dei filosof la conversazione era prima di tutto una necessità intellettuale una maieutica del pensiero cito mi chiedete e gli confidavo un amico se ho letto la bere in al no ma perché perché non ho più né il tempo né il gusto della lettura leggere in solitudine senza avere qualcuno a cui parlare con cui discutere o fare bella figura o ascoltare o da cui farmi ascoltare mi riesce impossibile ma già un secolo prima il cavaliere di Meret il primo teorico dell'onette aveva detto più o meno le stesse cose per lui il conversatore di talento non si limitava a penetrare nella psicologia del suo interlocutore per meglio sedurlo ma esercitava su di lui anche una funzione maieutica e nell'incoraggiarlo a esprimersi lo rivelava in primo luogo a se stesso facendogli scoprire qualità che non credeva di possedere nessuno ha illustrato meglio di Madame de Stal di cui cadono quest'anno i 150 anni dalla morte e che viene celebrata in tutta Europa nessuno ha illustrato meglio di lei dicevo che lo aveva sperimentato di persona il potere di coinvolgimento psichico e intellettuale della conversazione aristocratica francese giunta al suo apice prima che la rivoluzione vi ponesse termine questo piacere di pensare ad alta voce di forgiare le proprie convinzioni attraverso un libero scambio di idee con un gruppo scelto di amici vale a dire gli esponenti più brillanti della società più colta e sofisticata d'Europa Madame de Stal lo avrebbe pagato a caro prezzo anche per lei la conversazione non era un fine in sé e la parola privata la sua per prima aveva contribuito a diffondere gli ideali liberali e i progetti politici che avevano dato l'avvio alla rivoluzione tutta la via la scrittrice sarebbe stata obbligata a prendere atto che la Francia nata dal 1789 tardava ad essere un paese libero negli anni del terrore Madame de Stal era stata costretta all'esilio ma si era mantenuta fedele ai principi della rivoluzione e tornata a Parigi alla caduta di Robespierre aveva tentato di opporsi all'autoritarismo crescente di Napoleone facendo del suo salotto un pericoloso centro di opposizione a più riprese il primo console le aveva fatto sapere che sarebbe stato meglio per lei non immischiarsi di politica ma si trattava di una richiesta per lei impossibile come avrebbe più tardi confidato a sua figlia la politica era per lei poesia religione morale permette la tacera Napoleone le avrebbe interdetto di vivere a Parigi e poi avrebbe estreso la proibizione alla Francia segregandola nella sua casa di Coppé in Svizzera facendo il vuoto intorno a lei e separandola dai suoi amici più cari nei lunghi anni di questa persecuzione che la condannava alla solitudine lei che come ha scritto Jean-Straubensky per esistere aveva bisogno di essere in compagnia Madame de Stal era tornata spesso con il pensiero a ciò che era stata la conversazione d'antico regime ma dopo averne celebrato con dovizia di dettagli le virtù dell'Allemagne e l'aveva sentito anche l'esigenza di interrogarsi sulle sue intrinseche debolezze perché nonostante la sua meravigliosa fioritura la conversazione parigina non aveva dato i frutti desiderati perché i francesi non avevano saputo farne una scuola di libertà non a caso Madame de Stal si sarebbe posta l'interrogativo nei dieci anni d'esilio l'opera incompiuta scritta fra il 1811-12 al tempo di quella lunga drammatica fuga attraverso l'Europa che l'avrebbe infino sottratta alla tiranide di Napoleone permettendole di raggiungere la libera Inghilterra anche nei dieci anni di esilio il rito della conversazione è evocato come il più insostituibile dei piaceri perduti non solo perché esso poteva avere luogo soltanto a Parigi non solo perché Napoleone ne aveva di fatto proibito la pratica ma perché in ultima analisi quest'arte era il prodotto di una civiltà che senza la deriva liberticida di Napoleone non avrebbe avuto motivo di sopravvivere nelle sue specifiche forme alla caduta dell'antico regime se infatti nella monarchia assoluta il libero scambio di idee praticato dalle elitte nelle cerchie mondane aveva avuto fra le altre funzioni quello di aggirare la censura che pesava sulla parola scritta e surrogando all'assenza di luoghi istituzionali in cui fosse permesso di esprimersi aveva consentito all'opinione pubblica di affermarsi le conquiste della rivoluzione francese avrebbero dovuto rendere questo stratagem obsoleto in un paese libero retto da una libera costituzione dovevano essere non già i salotti bensì i giornali i partiti il Parlamento a fungere da pubblica palestra al confronto aperto delle idee ma nell'attesa di un futuro migliore era inevitabile che in lei fosse la nostalgia ad avere il sopravento eppure a ben vedere alcune delle ragioni che avevano contribuito a fare della conversazione francese d'antico regime un'arte in sé dovevano rivelarsi nell'emergenza politica motivi di debolezza l'euforia contagiosa della parola l'ardore imitativo che essa generava e la necessità dei francesi di pensare e di sentire all'unisono sconfinava facilmente nel conformismo mentre il gioco astratto delle idee incoraggiava la pratica della discussione fine a se stessa e peggio ancora del sofisma e indubbiamente il genio malefico di Napoleone aveva saputo utilizzare tutto ciò a suo vantaggio associando all'astuzia la forza confrontata così alla violenza l'arte maieutica della parola che citava pensare rinunciava la sua vocazione alla verità e si prestava a mascherare una vergognosa menzogna cito perché sfortunatamente in Francia si sono delle frasi per tutte le occasioni e non si ha il pudore di tacere nemmeno quando si sacrifica la propria coscienza ai propri interessi chiuse le virgolette come se non bastasse Napoleone aveva saputo utilizzare ai suoi fini una componente essenziale della conversazione aristocratica il gusto sottile della presa in giro servendosene per comprire di ridicolo i suoi avversari a rendere quest'arma micidiale contribuiva il culto aristocratico dell'onore e il terrore del ridicolo il ridicolo disonora più del disonore aveva detto la Rochefoucault un secolo prima esprimendo un'angoscia collettiva ed in effetti in una società come nessun'altra consapevole dell'importanza della propria autorappresentazione il ridicolo era un imperdonabile passo falso un peccato di stile che rivelava l'esistenza di una discrepanza fra l'individuo e il personaggio che interpretava vado a concludere Madame de Stal aveva già denunziato questa debolezza morale nel suo saggio della literatura in Francia la scriveva la società aveva armato il ridicolo di un tale potere che nemmeno il più grande degli uomini si sarebbe rischiato a sfidarlo ma ora la scrittrice era costretta a constatare come buona parte ne avesse fatto un'arma a doppia taglia facendo leva sulla fatuità dei francesi e gli avrebbe screditato i propri avversari servendosi dell'uso sistematico della satira e della caricatura una strategia resa ancora più efficace da un sistema censorio che privava le sue vittime di qualsiasi possibilità di difendersi pubblicamente ma questa strategia omicida Madame de Stal ben lo sapeva non avrebbe potuto essere perpetrata senza la complicità di quella che era stata la bonne compagnie più ammirata d'Europa cito non lo ripeterà mai abbastanza ciò che i francesi amano più di qualsiasi altra cosa è il successo e in questo paese chi detiene il potere può facilmente riuscire a rendere ridicola la sventura stessa Madame de Stal ne fece le spese per prima troppo appassionata troppo brillante troppo intelligente troppo intransigente troppo imperiosa troppo poco memore del ritegno necessario al suo sesso ella era il bersaglio ideale per una campagna denigratoria sistematica all'insegno del sarcasmo fin da giovane la scrittrice era stata consapevole dei rischi a cui il suo temperamento la esponeva nella sola società in cui desiderava vivere e in cui si era formata ma non era disposta per il timore del ridicolo cito che paralizzava ogni slancio spegneva l'entusiasmo mortificava la sensibilità a rinunciare a tutto ciò che costituiva la grandezza dell'uomo di lettere e del vivere civile a maggior ragione non avrebbe ceduto alla satira volgare di Napoleone continuando a tenergli testa fedele soltanto a se stessa e al suo insopprimibile bisogno di libertà ultima straordinaria interprete della conversazione d'antico regime madame de stal ne tracciava ugualmente giunta alle soglie dell'ottocento il bilancio storico conclusivo un bilancio estetico morale e politico che ne metteva in luce le virtù come le debolezze e che accomiatandosi dal passato prefigurava al tempo stesso quali sarebbero stati i suoi interrogativi per l'avvenire come conciliare esigenza di sincerità e cortesia libertà di giudizio e conformismo sociale piacere del gioco e responsabilità morale quali che siano oggi le risposte e certamente da quel bilancio della conversazione d'antico regime che si troverebbe vantaggio a ripartire per avere una maggiore consapevolezza delle straordinarie possibilità e dei molti rischi della conversazione a cui virtuale a cui la rete con i suoi Skype Facebook e via discorrendo va sempre più abituandoci grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti